Ancora cronaca, a Napoli l'ennesima aggressione a un medico. Si è stato arrestato l'aggressore del ginecologo colpito fuori all'ospedale in cui prestava servizio a Napoli. Allora ricostruiamo cos'è accaduto con Lara Martino. Lesioni personali aggravate, questa è l'accusa con la quale è stato arrestato ieri un uomo di 39 anni che avrebbe colpito con un pugno al volto un ginecologo in servizio all'ospedale vecchio policlinico dell'Università Vambitelli di Napoli. Un'aggressione l'ennesima ai danni dei sanitari in città che si è consumata sulle scale dell'ospedale in seguito al parto ed alcune complicazioni sopraggiunte per il bambino di una parente dell'arrestato. Nello specifico il neonato avrebbe avuto una crisi respiratoria. Il medico è stato curato e ha raccontato di non essere stato nemmeno presente al momento del parto della paziente. Quello della violenza in corsia è un fenomeno tanto ricorrente da essere oggetto di un piano straordinario di sicurezza della prefettura di Napoli si inizia oggi al vecchio Pellegrini dove tornerà al presidio fisso di polizia per garantire sicurezza nel pronto soccorso.